Siamo in compagnia di Giannicola Ferranti, presidente del coordinamento dei consigli di quartiere e contrada di Tolentino. Questo perché da giugno a luglio Tolentino ospiterà le Tolentiniadi. Allora, di cosa stiamo parlando? Allora, le Tolentiniadi sono giochi ludici sportivi, a livello dilettantistico, addirittura amatoriali. Sono il frutto di una sinergia tra tutti i consigli di quartiere e contrada di Tolentino. Questo è il primo esperimento che facciamo in collaborazione con questi consigli per riuscire a organizzare e a passare delle serate di questa estate con giochi, con attività che possano riempire l'estate Tolentinate. Sono nati nel 1997 e le Tolentiniadi furono una felice intuizione di un gruppo di amici, poi rimaste nel cassetto questo progetto. Quest'anno abbiamo provato a ritirare le fila di questo progetto e con somma soddisfazione posso dire che tutti i consigli di quartiere e contrada si sono animati e organizzati per dare una mano a fare questo evento. Qual è il programma di questo evento? Il programma è molto ricco, come dicevi, da giugno a luglio ci saranno svariate attività, svariati sport e discipline. L'inizio dell'evento sarà in concomitanza con la festa del foruario il 6 giugno, sabato alle 18.30, con la presentazione delle squadre e la presentazione delle gare e dei regolamenti. Il tutto si concluderà invece il 29 di luglio, che è un mercoledì, alle ore 21 in Piazza della Libertà, dove verranno fatte le premiazioni e assegnato il primo trofeo delle Tolentiniadi intitolato al compianto Giulio Chierici.